Te ci hanno mai mannato a quel paese sapessi quanta gente che ci sta 6,30 puntuali Largo Caracalla Questa qui non si vede perché non ci sono luci accese È la famosa villa di Alberto Sordi Si può visitare a numero chiuso, si va solo su prenotazione, su appuntamento Si va sul sito della fondazione Alberto Sordi Io non ho avuto ancora la fortuna Però ho visto che ci sono oggetti che ha utilizzato anche nei film C'è la paletta e il cappello del vigile Paolo buongiorno, Maria buongiorno Tra l'altro questa casa è stata comprata da Alberto Sordi nel 1958 E voleva comprarla anche Vittorio De Sica Cosa vi ricordate del grande Alberto Sordi? Io ovviamente non l'ho vissuto durante la sua carriera Che ero piccolino Per fortuna con i mezzi di internet, con Youtube Ci sono veramente delle chicche accessibili a tutti Come il famoso sketch del 1982 Insieme ad Adriano Celentano Nel Fantastico 8 Dove c'è Alberto Sordi e Celentano seduti in silenzio E Alberto Sordi che gli dice Sti silenzi che fai? Tu fai silenzi? A me mi invita a nozze A me mi va di fa niente Pezzi di storia E il primo cittadino amico mio Tu digli che te ci ho mannato io E va Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti